Buongiorno a tutti per un altro episodio di Minecraft Oggi per festeggiare i 40 iscritti Faremo una Lucky Block Mettiamo in prima persona perchè è in terza persona Allora Votiamo per il colore Masero Ecco Vediamo Non ci posso credere Oh Raga Che cacchio Ma io devo bestemmiare Ah no 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 Si si sta in posto qua Bella Wow Cos'è che ho? Che filo Che chiacchi Normalmente No ma no 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 mare Sono BAKATO E aspettiamo ah no ho visto anche questo è l'armatura c'è il primo lacchi bloccato è stato fortunatico che ha sfortunato il secondo ecco No. Non è successo niente. Ok. Ho preso quello che potevo. Dai, qualcosa ho preso. Oh, beh, l'addio. Non è maturo anche di Scott. Merda. No, no, no,no,no,no,no,no! No. Siamo due morti. No, facciamo il cazzo che non vale. Dai, ragazzi, non vale. Siamo ancora, andiamo. No, non vale. Ma perché? Porca puttana. Una città. Una città. Merda. Ah, c'è un oltre. Mi domando perché. E questo è sempre stato un rosso. E che cazzo che io non li faccio. Oh no. Non si sa mai che può essere utile. Ho perso la spada. No. Oh, non guarda. Perché ho perso la spada? Dove un tempo che c'era un togliarmi o qualcosa. Io vi ammazzo anche così. Non rischiamo perché qua ci sono i cazzo che mi colpiscono. Bene. Almeno abbiamo una spada. Abbiamo una spada. Delle mucche. Grazie per la bistecca. Abbiamo adesso questo. Ti viene un dispiace. Non so chi. Facciamo due morti, dai. Facciamo due morti. Perché portai due lì. Non lo so. C'è un po' non ci sta capitando quasi niente di sfortunato devo dire perché avrei un piccone di diamante un'ascia, posso averci? una palla posso averci? andiamo abbiamo ripreso la spatta ma chi è un fenomeno? sono un fenomeno, non scherzava però ho preso la spada, ok ok, mi ritengo un altro no? a 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 ora siamo invincibili a 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 no a a a a non a 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 ciao a a a grazie va bene io